Ex nuovo video, oggi andiamo a vedere cos'è lo stack e come funziona e andiamo a vedere anche alcune istruzioni basilari Allora, questo è inoltre il primo video della serie in cui andiamo a trattare il funzionamento delle subroutine o funzioni nella memoria del computer lo andiamo a trattare a basso livello quindi probabilmente vedrete anche un po' di codice assembly ma comunque non troppo complicato Allora iniziamo con il termine definizionale lo stack quindi lo stack è una parte di memoria del computer nella quale sono immagazzinate delle informazioni sulle funzioni o subroutine che sono attive in quel momento oppure che sono state invocate ma la loro chiamata diciamo non è terminata del tutto Per esempio se all'interno di una funzione chiamata f c'è un'altra chiamata a una funzione chiamata g la funzione f verrà temporaneamente messa in pausa e verrà eseguita g Quando g appunto terminerà l'esecuzione il computer riprenderà l'esecuzione di f da dove era rimasto diciamo quindi f nel frattempo rimane nello stack finché g non ha completato l'esecuzione Nello stack ogni funzione ha una stack frame e questa stack frame comprende appunto tutte le informazioni riguardanti quella funzione Per esempio uno stack frame è composto da argomenti o parametri di una funzione indirizzo di return e variabili locali Questo andremo a vedere più nel dettaglio in un prossimo video Oggi ci concentriamo sullo stack Allora questo qui è un modello di stack diciamo non molto bello come disegno però ci accontentiamo di questo Iniziamo con il mettere gli indirizzi quindi qui ci saranno gli indirizzi con il valore più alto qui quelli con il valore più basso Spesso diciamo questo modello viene mostrato ribaltato quindi con l'indirizzo con il valore più basso su e quelli con il valore più basso giù Però secondo me questo è il modello migliore per rappresentare lo stack perché è più intuitivo La parte giù quindi dove c'è l'indirizzo con il valore più basso è in detta top E qui punta il registro Comunque a questo indirizzo qui abbiamo 0x1 Punta il registro rsp che è detto stack pointer Rsp lo potete magari trovare con un altro nome a seconda delle vostre risorse E' detto anche esp che è il suo vecchio nome Quindi da quando si è passato all'architettura 8664 Diciamo è stato rambiato da esp e rsp Stessa cosa con molti altri registri come ebp e ip e rax Questo è uno dei registri che ha una funzione specifica Quindi non è general purpose Ma ha il compito di tenere traccia dell'ultimo indirizzo dello stack In questo caso è 0x1 E vediamo la prima istruzione che è push Questa istruzione cosa fa? Allora se noi abbiamo un valore Ad esempio il registro rax è immagazzinando il valore 10 E se noi facciamo push rax Questo decrementerà lo stack pointer di 8 Perché rax è di 8 byte E ho registro a 64 bit Quindi 64 bit diviso 8 8 byte E quindi toglierà 8 al valore di rsp E inserirà il nostro valore qui sotto Quindi questo cos'è? Magari un parametro Inserirà il valore sotto il parametro E quindi valore rax Rax Quindi riassumiamo un attimo Decrementa rsp Ovviamente della misura del nostro valore In questo caso è 8 byte Quindi rsp-8 E poi inserisce il valore Adesso vediamo l'istruzione pop Che è un'altra molto importante E fa la cosa apposta Quindi andrà ad eliminare Il nostro valore sullo stack Pop E specifichiamo la destinazione Sempre rax magari Qui però Non bisogna sbagliare Perché Questo Non andrà ad eliminare il valore Cioè il Registro rax Come si potrebbe pensare Ma Andrà a Aggiungere Allo stack pointer Il valore In questo caso 8 Quindi il valore dello stack pointer Ritornerà come nella prima E Inserirà il valore In questo caso 10 Nel registro rax Quindi Farà Rsp Pi Più 8 E Diciamo Lo scrivo come Uguaglianza adesso Rax Sarà 10 Immagazzinare il valore 10 Nel Registro rax Quindi è come se Questo valore Non ci fosse mai stato Queste due funzioni Possono avere dei comportamenti Anomali Che andremo a vedere Nel prossimo video Questo video è finito Spero che vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale